Ciao a tutti e benvenuti. Fra poche ore inizierà l'8 maggio del 2020, che è il giorno del sessantesimo compleanno di Franco Baresi. Quando si va a parlare di Franco Baresi, quando si va a toccare Franco Baresi, si tocca con mano un ganglo fondamentale della fede rossonera. Lui è rimasto nell'ora più buia e lui è assurdo ai trionfi della squadra dopo essere rimasto al Milan, quando c'era il pane duro a Milanello e quando invece tutto attorno c'erano offerte allettanti e c'erano grandi possibilità e grandi prospettive. Incarnate sul volto del capitano ci sono le linee della vita del Milan, non ho mai visto un volto così rappresentativo, proprio come anche tratti somatici del Milan, perché Franco Franco Baresi ha un'espressione seria e un'espressione sorridente, perché il Milan è questo, il Milan è gioie e dolori, il Milan è grandi trionfi e grandi delusioni e questo ce lo siamo detti tante volte. Io ricordo lo smarrimento che c'era in tutti i milanisti, io ero un ragazzo quando a metà della stagione 1981-82 uno strano virus, che è una cosa che è abbastanza di attualità, non per quanto riguarda il capitano ma per quanto riguarda tutti noi, lo aveva tolto dal campo proprio nel momento in cui la squadra non aveva più bisogno, ricordo l'arrivo del buon Venturi che era un libero, baffuto, di cui all'epoca si diceva un gran bene per cercare di rimpiazzare il capitano, ma insomma rimpiazzare il capitano nel Milan non è mai stata cosa per nessuno. E poi ricordo il piacere con cui tutti i tifosi rossoneri guardavano Franco Baresi alzare coppe in Italia, in Europa e nel mondo più di una volta, più di due volte, più di tre volte, quando poi le cose sono diventate belle, quando il ciclo è cambiato e quando la vita del Milan è cambiata. E quindi un giorno significativo, un giorno importante, un giorno che non può avere che la copertina in uno dei nostri discorsi, in una delle nostre chiacchierate. Franco Baresi ha scritto tante grandi pagine a San Siro, ma dal suo punto di vista è già rivolto al nuovo, al moderno. Io trovo straordinario che dal punto di vista virtuale, sotto le bombe virtuali del virus, Milan e Inter abbiano avuto la forza, l'intensità, il coraggio di continuare a portare avanti il progetto del nuovo San Siro con il Comune di Milano. Ha maggior ragione, perché la crisi economica e sociale che già c'è e che sarà sempre più acuta nei prossimi mesi, ci auguriamo con la calata graduale del virus, ci auguriamo, anche se per quanto riguarda la Lombardia ancora tanto non lo si può dire. Naturalmente con la crisi che ci sarà, avere la possibilità da parte del Comune di Milano di dare lavoro e di innovarsi con due grandi proprietà che sono ancora lì pronte a investire, disposte a investire. Lo trovo ecco il classico slancio di Milano, della Milano che sa, anche quando la storia la colpisce duro, sa rialzarsi prima del tempo, sa ricostruirsi prima del tempo e sa guardare avanti prima degli altri. Trovo che ci sia qualcosa di straordinario in questo. Oggi sono uscite le foto anche nei progetti di Populus e Manica Sportium della rifunzionalizzazione dell'attuale San Siro e quindi il fatto che tutto questo accada proprio adesso, quando si potrebbe anche fischiettare, stare con i baffi finti, abbottonati e coperti e aspettare tempi migliori, ecco lo trovo straordinario. E probabilmente non è un caso che per la prima volta Milan e Inter respirino aria di concretezza e di buon umore vero su questo progetto. Proprio perché hanno saputo tenerlo fermo, hanno saputo tenerlo in alto, soprattutto nel periodo di maggiore difficoltà per Milano e soprattutto guardando avanti quando l'investimento di Milan e Inter sarà nuova linfa per rialzarsi verso il futuro. E credo che questo sia proprio tipico dello spirito di Milano. Quindi è un progetto da benedire subito al di là poi dei dettagli architettonici, al di là evidentemente delle cubature e tutte le cose di cui ho sentito parlare, ma per lo spirito con cui nasce. Dentro questo progetto c'è lo spirito di Milano e quando in un progetto c'è anima, quando in un progetto c'è afflato, quando in un progetto c'è spirito, è il progetto giusto. Anche oggi in vari collegamenti mi è stato chiesto di Donnarumma perché anche oggi si è tornati a parlare di Donnarumma. Gigio è un ragazzone che vuole bene al Milan, Gigio non farà mai il male del Milan. In questo momento mi sembra un po' artificioso buttare luce addosso a Gigio. Nessuno di noi sa come sarà il calcio dopo il virus, nessuno di noi sa come sarà il calcio quando tornerà. Noi siamo ancora in un paese in cui ad altissimi livelli non sportivi si fa il tifo perché il calcio non riparta e non ho ancora capito il perché, perché poi mi dovranno spiegare perché se il calcio non può ripartire a giugno può ripartire a settembre e se il calcio poi non riparte a settembre sono guai seri. Siamo ancora in un paese in cui mentre in Germania ci sono tre positivi al Colonia e vengono gestiti, nel nostro paese invece c'è un positivo al Torino e ne siamo spaventati. Quindi io capisco una cosa, capisco che in Germania il virus c'è esattamente come in Italia però lo sanno prendere, lo sanno gestire, lo sanno affrontare. Noi evidentemente a 360 gradi e non solo a livello sportivo ne siamo spaventati perché facciamo fatica a gestirlo e quindi questo è il vero problema, non il problema del calcio, dello sport, non il problema delle squadre di Serie A che vogliono ripartire per i soldi. Ma ci pensate, le squadre di Serie A perdono un sacco di soldi e vogliono ripartire per perdere un po' meno, ma sempre di perdite si tratta. E poi il discorso etico morale sul fatto che non si può giocare mentre ci sono i morti, i morti continueranno purtroppo ad esserci e non è che fra un anno quando magari ci auguriamo di essere arrivati a quota zero i morti non ci saranno più, ci saranno anche fra un anno perché questa guerra virtuale ce la porteremo dietro per tanti anni. Chiaro è che non possiamo far finire il mondo, il mondo, il mondo e il pianeta vanno avanti con tanta angoscia, con tanto dolore nel petto interrogandosi e con tanti dubbi sulla gestione di questo virus e degli altri virus prossimi venturi che magari arriveranno, speriamo di no ma non si sa mai. Quindi noi non sappiamo come sarà il calcio quando tornerà, oggi non ci sono grandi tentazioni per Gigio, oggi Gigio è un ragazzo tranquillo che ha parlato ai milanisti durante tutta la quarantena, non ci sono fughe in avanti, non ci sono idee strane, Gigio Donnarumma è un patrimonio del Milan e sarà sempre una risorsa del Milan, Gigio Donnarumma non priverà mai se stesso al Milan con un colpo sotto la cintura. Quindi da questo punto di vista io penso che i tifosi del Milan abbiano già avuto la riprova in momenti molto più delicati quando attraverso un ragazzo si voleva dare una lezione al suo procuratore, procuratore che era già in viso ad una delle due anime del Milan prima del cambio di proprietà dell'aprile 2017 e in quel momento è stato messo di mezzo un ragazzo, però anche ancorché messo di mezzo il ragazzo ha scelto Milan, per cui oggi che quelle condizioni non ci sono, che c'è maggiore serenità, ha maggior ragione, non dobbiamo temere né agguati né insidie né strani raggiri e strani abboccamenti su Gigio, quindi da questo punto di vista sono molto tranquillo e credo che anche i tifosi del Milan in cuor loro lo siano, senza bisogno di sentirselo dire da me o da altri, quindi questo è un po' il punto della situazione di oggi, prepariamoci tutti davvero a mezzanotte e un minuto a fare gli auguri al rosso nero del secolo.